Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e siamo qui con Yakuza Like Dragon, capitolo 12, la fine della Yakuza. Dovevamo racimolare quei mille mila milioni? Ragazzi, io ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta perché ho trovato quello che dovevo fare praticamente e vi mostro cosa ho dovuto fare per racimolare i 3 milioni nel mentre. In primis qua, questo negozio ben tempo, era una missione secondaria, questo negozio era bloccato e girovagando ho trovato che c'era una quest, l'ho risolta, l'ho completata, bastava distruggere, uccidere, sconfiggere un nemico a livello 9, quindi era una quest molto a inizio a early game e mi ha sbloccato appunto il negozio dove rivendere i materiali, no? Dovete ovviamente l'ingotto d'oro, quegli oggetti là, bene, ma non mi bastavano. Quindi io sono andato a fare le missioni di Herod Part-Time, no? Da cercare. Sapete queste missioni, no? Che danno 10.000, 10.000, bla bla bla. Sennò che cerca, cerca, cerca e mi appare trova il mio gatto 1 e trova il mio gatto 2. Guardate quanto mi è andato. Un milione e un milione. E bisognava trovare 9 gatti per la prima missione e l'ultimo, il decimo gatto, per l'ultima. Il richiedente era il Power Ranger, diciamo, di Part-Time Hero. L'ho completata, ammetto che per trovare i gatti ho usato una guida. Cioè, l'ho ammetto perché in tutta la città cercare 10 gatti era un po' una piaga. Quindi ho usato la guida, va bene, scusate, ma l'ho ammetto, cioè nel senso, per trovare questi collezionabili. Mi è andato 2 milioni, più gli oggetti venduti sono arrivato, raga, a 4 milioni. Tra l'altro, completando anche i gatti, mi ha sbloccato anche Robson, il decimo gatto, che è letteralmente un pesta amico. Non l'ho ancora chiamato, lo chiameremo sicuramente. Comunque, possiamo finalmente andare avanti e proseguire con la trama. Allora, vediamo. Ah, questo è Mitsu, ok. Sì, è Mitsu. Quello dell'inizio gioco, il biondino. Ce l'ha un secondo, bisogna di parlare di Arakawa-san. Oh, quando si dice Arakawa-san, Kasuga ha ben più di un minuto. Allora. Anche, proprio non ce lo vuole dire, ok. Vediamo. Arakawa-san. Sì. 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 quindi al nostro ritorno Oshino avrà risolto si spera la situazione avrà stato il candidato adeguato ok da un compagno Yakuza si esatto da Mitsuo Mitsuo ah ho capito Masaru Watase Watase si incontreranno un outsider da Kanto da Kanto sto nome rimbalza sempre no? Kanto eh vabbè adesso avrà anche come te più piccolo spari da quelli incontri ebbe la sua rovina me lo auguro anch'io ce lo auguriamo un po' tutti penso che anche Ichi se lo stia augurando si ma non toccarti la ferita idiota cioè non fidarti così eh vabbè me lo auguro per te ok comunque Kanto vedete il nome Kanto viene sempre fuori ah il signorino il signorino con i capelli un po' sporchi un po' unti se li lavi eh perché non c'è un cazzo? ma chiedo eh Vindy? Non è così. Il mio padre sta a fare qualcosa di attenzione. E' vero. E' vero che sta a fare qualcosa di attenzione? Il suo amico è stato un po' di dormire, certo? Il mio padre è detto che il mio padre è un po' di riposizione. Sì, è proprio. Quindi, non dovremo parlare di un po' di più. Non, non dovremo andare a fare un po' di più. ma è sicuramente quando Vatase c'è una possibilità di dire che Atome ha semplicemente in modo che in modo che Vatase è iniziale e sicuramente la storia va a continuare ma se quindi secondo lui vuole far sparire Vatase per salire al potere ma abbia anche senso in realtà ma non ma ma non 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 ma non 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 cliente è ma ma non Era così. Ma se potete cercare il suo avuto di un'escalante, dovrebbe essere potenti ringraziare a me in order? E' di questo? Se potete ringraziare a me iniziare a me inizialmente a me inizialmente, e mi sono potente farbare in modo che non si tratta di un'escalante, ci sono potenti salire la scelta sull'escalante. E non mi permietta di dare capire. Se c'è un'escalante, non ti è una scelta. Ma stai di tutto, dai. Questa è brutta. Tendo, ah, quindi avremo anche un tet a tet col buon Tendo, tra virgolette buon Tendo, eh, diciamo che non ha Tendo, ah, 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 no, eh, no, scusate, eccolo qua, Tendo. Ah, quando ti è tornato a Tendo? C'è oggi, siamo in un giorno, ma non ci saranno il lavoro. C'è, è così? Ha, non lo conosco, no, non lo conosco, 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 non lo conosco. No, non lo conosco. Ma, non lo conosco, ma non lo conosco, non lo conosco, ma non lo conosco. E appunto Sarà un osso duro stotendo Non vedo l'ora di sfidarlo Non attendolo ora No eh Va bene Ok siamo al Gran Cabaret E stiamo Tergiversando Aspettando Ma stiamo Intanto qua ci divertiamo Beviamo Massimo Eh sì Sei un po' impaziente Ma leggermente Questo è in gita Questo pensa di essere in gita Io adoro Sì perché c'è C'è tendo C'è tendo Ma intanto Aspetta Cosa la forza fare? Ma dai Sembri un bambino Tra l'altro Cosa? 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 Ho detto che ci sono dei miei figli che hanno parlato con un po' di più. Se non ci sono mai più l'uomo, non lo so? E' ovviamente il mio nome è un po' di più. Ma è un po' di più le mie figlie. Ma è un po' di più. Ma è un po' di più? Eh? È un po' di più. Che cosa è? Ma che è? È un po' di più. È un po' di più. È un po' di più. Circa No, non può saperlo in realtà Ma da Fatica se tuoi, Nick Fatica se tuoi, Nick, parte 2 Cos'è un ubriaco tronco? Non dargli idee Non dargli idee No, 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 no E poi no È una stronzata È una stronzata E ovviamente gli danno tutti i corda Giustamente gli danno tutti i corda Che zve posso fare? Ok Al QG Domani Ok Centro commerciale Va bene Sì, in effetti abbiamo anche un po' di soldi Un po' di spicci Quindi Why not? Allora Siamo a Tra l'altro Siamo a Sottenbori Ma io posso tornare indietro Cioè posso tornare ai Ginkgo Tipo se volessi cambiare classe di nuovo Sì Sì, 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 sì Perfetto Io torno Posso tornare ai Ginkgo quando voglio Per una cassaforte d'oro Eh, ma Posso tornare ai Ginkgo quando voglio Per Per eventualmente Tornare Se volessi il Trapper Se volessi il Cuoco Cosa che faccio dopo? Intanto vedo un attimo Sti preparativi come sono Qua c'è qualcuno Eh, sfidiamolo Vediamo un attimo Il 39 Samurai è dimenticato Minchia, 39 Eh E quando usiamo fucile il Samurai? Eh, vabbè Ammazziamolo Eh, parecchi livelli sopra di noi Noi facciamo un cazzo Facciamo un cazzo Andiamo Ecco, così si fa Samurai Così si fa Fa doppio attacco Satana celata Porca tro... Eh Eh Ecco Il motivo per cui ho rimesso Eh Namba La finiscia Perché io Proprio letteralmente Eh Sdrumavo I nemici Katana Vai Denti paralizzanti Chissà quanto Quanta esperienza Dà una roba del genere Perché lui è da solo Quindi Solitamente Vale come nemico Stigo Cioè forte Perché non gli facciamo Niente Ma perché Dove tirare fuori un fucile Perché Eh Alito infuocato Dai Un fucile Dove tirare fuori un samurai Non ha senso Al fuoco Ci resiste molto bene Però Integli altri denti Paralizzanti In piena faccia Eh Si muore Si muore Adesso Yes Tanto da Insomma Pensavo meglio Mangiamo una Tanto soddici L'abbiamo Mangiamo Giusto per Curare la vita Perfetto Ok Ok Si può Il legame Sarà anche Di andare al Survive Bar Ovviamente Ok Allora Devo andare qua Proseguiamo Per di qua No Aspetta giù Per di qua Ok Ok Quindi Avanti Giù dal ponte Giusto Dovrebbe essere Per di qua Si Si Esatto Ecco qua Non mi pare Un centro commerciale Sai Ancora in costruzione Ah 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 Eh E questo Che cacchio è È un robot Yappi Coon Cos'è Un robot guida Molti negozi Telefoni Supermercati Utili sempre Per la clientela Eh Direi di si Ma anche io Che ne vedo uno Cosa che la dite È questa qua Vabbè Non è un centro commerciale No Mi sa di no Cos'è Un saccarichi Per scendere Per salire Che è un'arena Ma è per un sito di costruzione Cos'è Dov'è la zona commerciale Non vuol dire commerciale Benvenuti all'arena di Bari Ecco Sotto in voi E io direi che qua si livella Guerrieri che confidano le loro capacità Eh sì 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 Vengono trasmessi in diretta per i nostri membri La ogni sfida Una ricompensa Anche a Camburocio Allora Arena di Battaglia Sottembori Conquistare ognuno dei numerosi piani dell'arena Per la prima volta Ti farà guadagnare una ricompensa A cui puoi accedere A prendere la valigetta speciale Sfacendo condizioni stabilite Per ogni battaglia C'erai premi extra Ottenibili più volte Ok Quindi farmabili Interessante Sarà farmare materiali sicuramente Servirà per farmare materiali Per potenziare le armi Potresti persino ricevere degli oggetti rari Per cui accetta la sfida E punta la vetta In realtà Esatto Ma va? Questa è Guardi il gioco ti sta dicendo Fermati a livellare Livella 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 Esatto Ok Va bene Allora Io direi che Potrei arrivarsi il tempo perfetto Va bene Io direi che il gioco mi sta Dicendo di livellare Proprio In modo implicito Mi dice Livella Gioca Ed è quello che farò Ovviamente Off screen Perché io Non posso anche perdermi ore Livellare perché la cosa di fatto è il fulcro di ogni GDR La cosa mi diverte sempre tanto Quindi ragazzi Io penso che livellerò Adesso farò anche un attimo avanti e indietro da Ijinko Per magari potenziarmi le armi E le armature al laboratorio E cambiare un attimo le classi Tornare penso alle classi Cioè chef E freelancer Quindi ragazzi Il video di oggi termina qui Noi ci vediamo a un prossimo video Vi ricordo Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Commentare Condividere Lasciate un bel pulso Nell'insù Un bel like E noi Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi